Da leggende ai racconti popolari della Sardegna, Soramala e la vecchia. Una volta un uomo di Urune, che si trovava in grande miseria con la moglie, decise di vendere l'anima a Soramala, un diavolo, per arricchirsi e non combattere più con la fame. Mentre si avviava alla cima di Sant'Andrea, incontrò una vecchia che gli domandò dove fosse diretto. Vado a vendere l'anima a Soramala, rispose, perché mi liberi dalla miseria. Non andare da Soramala, disse la vecchia, segui piuttosto il mio consiglio. Vai in campagna. Troverai un somaro legato ad un albero. Portalo a casa e vedrai che la miseria sparirà. Quando avrai bisogno di danaro, chiedi all'asino di aiutarti. L'uomo fece come la vecchia gli aveva consigliato e, giunto a casa, chiese all'asino di aiutarlo. Quello si mise subito a caccare monete d'oro. I due coniugi guardavano sballorditi le monete che luccicavano e ben presto la miseria scomparve dalla loro casa. Ogni volta che avevano bisogno di danaro, l'uomo si avvicinava al somaro, mentre la donna deponeva in terra un canestro sul quale, con piancevole tintinio, cadevano le monete. L'uomo trattava bene la bestia e la nutriva abbondantemente, stando attento che nessuno gliela portasse via. Ben presto i vicini si accorsero della prosperità dei due coniugi e, invidiosi, cercarono di capire d'onde venisse tanto benessere. «Ha venduto l'anima sorrammala», bisbigliava la gente. «Oppure ha trovato un tesoro?» «Non è possibile», rispondeva qualcuno. «C'è benessere in quella casa, ma c'è anche tranquillità. Proviamo a spiarli», propose una donna del vicinato. Appena sentirono il tintinio delle monete, guardarono da un piccolo pertugio e videro che era il somaro a produrle. Fu tanta l'invidia che i vicini decisero di ammazzare la bestia. Visto l'asino morto, l'uomo cominciò a piangere e a disperarsi. Ben presto la miseria tornò a visitare la sua casa. Pensò allora di rivolgersi a sorrammala. Salì sulla punta più alta del monte e si mise a gridare. «Soramala, oh! Soramala, oh!» «Che vuoi?» rispose infine la voce di soramala. «Mi hanno ucciso l'asino!» si lamentò l'uomo. «Non ho più di che vivere!» «Peggio per te! Dovevi avere più cura di lui!» E la voce si allontanò nel vento. L'uomo si avviò verso casa sconsolato. Lungo la via del ritorno incontrò la vecchina che gli aveva regalato il somaro e raccontò a lei la sua sventura. «Va!» disse la vecchia. «Portami la pelle dell'asino con tutti i suoi ossi! Ma vada di non dimenticarne neppure uno! Eccoti un tovagliolo! Avvolgili con questo!» L'uomo andò a raccattare gli ossi e le avvolse come la vecchia aveva raccomandato. Poi tornò nuovamente da lei. «Ora lavali bene e lasciali asciugare!» disse la vecchia. «Poi stendi per benino la pelle dell'asino e metti sopra nella giusta posizione gli ossi. Sta attento però che non ne manchi neppure uno!» Dopo aver eseguito gli ordini, l'uomo si accorse che mancava un ossicino. Non riuscendo a trovarlo, cominciò a disperarsi e pensò che solo Soramala, che era potente, avrebbe potuto aiutarlo. Tornò ancora una volta in cima alla vetta di Sant'Andrea e si mise a gridare a lungo. «Soramala, oh! Soramala, oh!» Infine giunse la risposta. «Che vuoi da Soramala?» «In cambio dell'anima ti chiedo un ossicino soltanto. Senza quello la vecchina non darà vita all'asino. Va via!» disse Soramala furente. «Rivolgiti alla vecchina. Io non so dov'è il tuo ossicino!» Arrivò in quell'istante una mosca cavallina e punse la gamba del demonio, ma questi non si mosse. Allora giunse un'ate e anch'essa gli punse la gamba. Soramala, infastidito e irritato, batte il piede per terra e dal suo zoccolo saltò fuori un ossicino di somaro. L'uomo lo afferrò con sveltezza e si mise a correre per la campagna. Era disorientato, aveva sempre avuto fiducia in Soramala e questo gli aveva mentito, affermando di non sapere dove si trovava l'osso. Tornò a casa trafelato e provò a inserire quell'ossicino nello scheletro del somaro. Si incastrava perfettamente. L'uomo avvolse gli ossi nella pelle, mise tutto entro un recipiente di sughero e si recò alla ricerca della vecchina. La trovò in una nurra sul monte di Lula. La vecchia stava seduta col volto interamente coperto da uno scialle e pareva avesse un gran freddo. L'uomo depose il recipiente sui piedi, ne estrasse la pelle con gli ossi e l'asino riprese vita e cominciò a camminare, ma zoppicava ad un piede e pareva avere un difetto proprio dove era stato inserito l'ossicino mancante. Dove hai preso l'ossicino? domandò la vecchia. Da Soramala, rispose l'uomo. Per tutta risposta la vecchia si coprì il viso con le mani e vedendola così triste l'uomo spiegò che si era rivolto a Soramala perché era il più potente e per ottenere ciò che desiderava gli aveva venduto l'anima. La vecchia tolse l'ossicino contaminato e lo sostituì con una pietruzza. Allora cadde un prodigio. Gli ossi del somaro si trasformarono in un mucchio di monete d'oro. Aspetta e vedrai chi è Soramala, disse la vecchia. Tra poco verrà qui. Attesero insieme e dopo qualche ora Soramala arrivò. Restituisci l'anima a quest'uomo, disse la vecchia con tono imperioso. Soramala la guardò con schermo ma la vecchia con tono ancora più autoritario gli intimò ancora una volta di restituire l'anima. Ma tu chi sei? Che potere hai per parlarmi in questo modo? Io sono colei che ha più potere di tutti perché mio figlio ti ha vinto, disse la vecchia. Non ricordi che fu scritto porrò inimicizia fra te e la donna? Ah tu saresti... In quell'istante la vecchia si trasformò in una bella signora e si fece il segno della croce. Soramala sentì franarmi la terra sotto i piedi e avvolto nelle fiamme precipitò nel ventre della terra generando una profonda voragine.